Buongiorno a tutti. Per me inizia una nuova fase nel Movimento 5 Stelle. Anzitutto io vorrei ringraziare tutto il collegio che mi ha permesso di essere eletto alla Camera dei Deputati ed in particolare anche alla città di Portici che ci ha reso la prima forza politica in città. Dall'11 ottobre sono a Roma. A breve partiranno le commissioni parlamentari che mi vedranno impegnato quotidianamente a difesa del Sud, per il bene comune e della collettività. Conoscete l'importanza delle commissioni consigliari e delle commissioni parlamentari. Opposizione siamo a Portici, opposizione siamo a livello nazionale. per la difesa del Sud, per fornire un indirizzo politico e di controllo. A tal proposito sono qui a comunicarvi le mie dimissioni da consigliere comunale e al mio posto subentrerà la prima dei non eletti. Yolanda Meglio, un'attivista storica che continuerà l'attività all'interno delle commissioni consigliari. Un'attività a difesa del bene comune e della collettività. Così come ha sempre fatto il Movimento 5 Stelle di Portici. Sono felice di questo passaggio di testimone come consigliera comunale e il mio impegno sarà di continuare nel solco dell'esperienza di questi cinque anni e mezzo da quando cioè il Movimento 5 Stelle di Portici è nell'istituzione comunale. Il Movimento 5 Stelle di Portici c'era, c'è e ci sarà. E io sarò la vostra voce in Parlamento. Io sarò la vostra voce in Parlamento.